Ciao fresatore, la voce che senti è quella del bel ragazzone che ti sta facendo vedere la nuovissima fresa delta compact per taglio veloce di nesting. La caratteristica differenziante di questa fresa rispetto alla delta elicoidale è la compattezza, ottenuta calettando mentre taglienti che generano un diametro di 6 o 8 mm, in un corpo in acciaio antivibrante di 12 mm di diametro. Questo le consente di avanzare a velocità impressionanti e cioè fino a 20 mm su legni teneri e 15 mm su legni duri, ovviamente raggiungibili con un pantografo professionale e con precisi accorgimenti. Inoltre i taglienti sono in metallo duro rivestito con la speciale polvere di diamante Boss Beaver che, oltre a prolungare la durata dalle 3 alle 4-5 volte di più rispetto alle alternative professionali non rivestite, permette un maggior scarico del trucciolo ed un minor riscaldamento quindi meno bruciature. Ma bando alle ciance e testiamo subito questo nuovo gioiellino. Prima di mettere la dura prova con il pannello più grande di multistrato di betulla, un materiale molto duro e abrasivo, riscaldiamo la fresa su tre pannelli più piccoli di materiali sempre tosti quali in mediefe laminato e multistrato. Entriamo in interpolata, cioè con una rampa, raggiungiamo i 15 metri al minuto e per stressare la fresa curviamo stretto uscendo di lato senza molta presa. I pannelli piccoli sono infatti tenuti fermi dalle ventose e, anche se il pantografo è professionale, qualche leggera vibrazione la sentiranno sicuramente e la finitura della fresata potrebbe risentirne. Ma come puoi vedere il risultato è ottimale. Troviamo delle piccole vibrazioni comunque nel lato basso del pannello. Passiamo quindi al pannello grande. Ora arriva il bello, portiamo al limite la Delta Company. Fresiamo un multistrato di betulla da 18 mm in una sola passata, avanzando a ben 13 metri al minuto, un valore che potrei definire esagerato per una fresa così piccola, su un pannello così spesso e duro. Ma lo scopo di questo video è anche di dimostrare che le prestazioni di taglio della nuova Delta Company sono ben al di sopra di quelle delle migliori fresie professionali in metallo duro per nesting in commercio. Il segnale che siamo vicini al limite è il fischio audibile durante la fresata. Se infatti dovessi capitare anche a te di udire un fischio durante la lavorazione con una fresa e chiedessi assistenza in chat o al numero verde 800 846 223, un nostro tutor ti suggerirebbe di diminuire urgentemente la profondità di passata o la velocità di avanzamento e di cercare di fissare meglio il pezzo per evitare di rompere la fresa prima di finire la lavorazione. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti.